LUCIO GARDIN Ci ha detto che lei si occupa di sigarette, è vero? Beh, sigarette, mozziconi, l'è il monopolio che si occupa di sigarette. Sì, vabbè, ma come va? Eh, seta vacca. Bene, cari amici, questo non è un messaggio promozionale, è un appello, una richiesta di collaborazione e una richiesta di aiuto che la natura fa a tutti noi. Perché non dobbiamo aspettare un'ordinanza del sindaco per rispettare l'ambiente. Perché l'ambiente è la nostra prima casa, prendersene cura conviene prima di tutto a noi per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Ah, 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 non si fa così, non si lascia la plastica in giro. Ah, 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 ah! Grazie a tutti.